ciao a tutti oggi prepariamo un secondo fantastico i petti di pollo con la crema di spinaci vi do gli ingredienti per 4 5 persone 500 grammi di filetto di pollo mezzo litro di latte scremato o parzialmente scremato se vi piace dell'aglio 500 grammi di spinaci e come spezie utilizzo mezzo cucchino di brodo granulare di verdura dell'aglio in polvere e del pepe in grani e infine lui il nostro ingrediente segreto procediamo vi ricordo però prima che la lista completa degli ingredienti qui sotto nella descrizione e vi invito a visitare la playlist del mio canale youtube friends e le sue ricette dimagranti perché ne troverete a centinaia procediamo dobbiamo frullare il latte se vi piace l'aglio e gli spinaci e aggiungiamo anche il latte logicamente agli spinaci e se vi piace l'aglio aggiungete anche lui scaldiamo una padella antiaderente poca le polveri e non appena sarà calda mettiamo a rosolare il pollo e lo scottiamo su entrambi i lati e una volta che è rosolato lo mettiamo da parte per dopo nella stessa padella poi versiamo il miscuglione di spinaci e latte aggiungiamo il brodo granulare di verdura e se vi piacciono anche l'aglio in polvere e il pepe e infine lui il nostro ingrediente segreto lo copriamo e lo cuociamo a fuoco lento finché non si sarà spopolato dobbiamo solo ricordarci di mescolare di tanto in tanto più si asciuga e più andrà mescolato deve praticamente diventare un purè dopo che ha cotto circa una quarantina di minuti aggiungiamo i fetti di pollo lo facciamo restringere e cuociamo per una decina di minuti che servisse logicamente se aggiunge un pochino di acqua fredda poi impiattiamo ed ecco impiattato il nostro secondo e a questo punto vi svelerò l'ingrediente segreto è della noce moscata usatene quanta ne volete buon appetito e mi raccomando condividete la ricetta con chi vuol fare una dieta sana oppure perdere peso senza fare troppa fatica ciao al prossimo video